Controlli della Guardia di Finanza di Salerno sui prodotti in vendita a tutela dei consumatori, oltre a 10.000 prodotti ritenuti non sicuri e posti sotto sequestro dalle fiamme gialle che sono intervenuti nell'ambito di controlli effettuati in materia di tutela delle persone e per impedire il commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Ad eseguire l'operazione di controllo la Guardia di Finanza della Compagnia di Vallo della Lucania che nell'ambito di appositi controlli economici sul territorio e a seguito mirati sopra luoghi hanno eseguito verifiche presso un grande magazzino del Basso Cilento dove sono stati rinvenuti sui vari scaffali una serie di articoli di cancelleria e cartoleria come penne, portacartellini, risme di carta, oltre a diversi kit per la videosorveglianza di dubbi a regolarità. Da un esame più accurato degli articoli, infatti, gli stessi sono risultati non rispondenti ai dettami previsti dal Codice del Consumo poiché sprovvisti delle informazioni identificative minime quali i dati relativi al produttore importatore, il paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, le istruzioni e le precauzioni per l'utilizzo che per legge devono essere presenti sulle confezioni o sulle rispettive etichette in modo visibile, leggibile ed in lingua italiana. La posizione di tali diciture garantisce infatti al cliente finale la consapevolezza della qualità del prodotto che sta acquistando e soprattutto il suo utilizzo in piena sicurezza. La merce regolare, corrispondente a circa 10.000 articoli ritenuti non sicuri, è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il titolare dell'esercizio è stato segnalato alla competente Camera di Commercio e rischia ora una sanzione che può raggiungere i 26.000 euro.